Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi mi trovo in piazza San Pietro. Questa palazzina che vi indico, questa qui, dovrebbe essere dove c'è la finestra da dove si affaccia il Papa quando fa la messa. L'idea era di fare una visita anche alla basilica, il problema è che c'è una coda chilometrica. La basilica ce l'ho avanti però, per entrare bisogna aspettare un pochettino. Allora ragazzi, dopo aver fatto 40 minuti o qualcosa di più di coda, eccomi qua, andiamo a visitare la basilica. Siamo dentro la basilica di San Pietro. Guardate che meraviglia, che meraviglia! Non mi sembra vero di essere qui, veramente, sono felicissimo! Allora! Allora! mi lascio piazza san pietro alle spalle vado a vedere cosa c'è di qua giusto di fronte sono a piazza di spagna non mi sembra vero eccomi qua ho preso la metro a ottaviano ed eccomi qua facciamo il giro in piazza di spagna andiamo a vedere la famosissima scalinata vorrò andare a piedi fino al pantheon seguendo google maps quindi ci aggiorniamo qui dopo ragazzi finalmente sono arrivato al pantheon dopo 15 minuti di camminata a piedi eccomi qua proviamo ad andare all'isola tiberina adesso dovrò attraversare questo ponte per andare sull'isola tiberina questa qui è l'isola tiberina ho sostituito la batteria della gopro e adesso mi sto dirigendo verso la bocca della verità la bocca della verità l'ho vista da fuori perché c'è un po' di gente non ho proprio voglia di stare qui a fare anche la coda per la bocca della verità ho fatto giusto una foto da fuori e va benissimo così monopattino buttato lì continuiamo la camminata la camminata è quasi giunta al termine direi che faccio quest'ultima ripresa bella esperienza dopo andrò a cercare la metro che mi porterà a destinazione veramente un'esperienza unica indimenticabile grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto a voi non costa nulla a me date una grandissima mano per far crescere il canale e continuare a portare nuovi contenuti un salutone dalla bellissima Roma e ci vediamo con il prossimo video ciao